bitcoin per le persone parliamo di bitcoin seconda analisi week 27 benvenuto e benvenuta un abbraccio da ivan oggi come vedi sono da solo approfittiamo per salutare l'amico alberto che in questo momento è in viaggio rimani con noi oggi vediamo una sarà una puntata molto veloce vediamo due notizie che vogliamo condividere con te che abbiamo appunto girato e condiviso rituitato sul nostro canale twitter vediamo velocemente il mercato altrettanto velocemente il grafico che poco è cambiato negli ultimi giorni quindi rimani con noi lasciamo un minuto al nostro nuovo sponsor che ci accompagnerà per i prossimi tre mesi e poi partiamo a razzo sponsor di questa puntata è prime xbt con prime xbt avrai la possibilità di fare trading su cripto valute forex indici azionari inoltre potrai seguire centinaia di traders esperti con l'opzione interessantissima del covesting è molto semplice apri un account dal link che trovi qui sotto in descrizione fai un deposito e ottieni il 50 per cento di bonus utilizzando il codice crypto learners 50 segui il nostro tutorial che ti spiega come seguire le strategie di altri scegli il tuo favorito siediti comodo e guarda il tuo account crescere oppure registrati dal nostro link fai un deposito approfitta o del 50 per cento di bonus sul deposito o del 50 per cento di sconto sulle fee per i primi sette giorni usando albi e ivan 50 non aspettare un secondo in più scegli se essere tu il trader o seguirne altri tutti i link e i codici bonus in descrizione ringraziamo prime xbt per sponsorizzare parliamo di bitcoin condividiamo coin market cap andiamo a vedere cosa sta succedendo nelle ultime 24 ore segnali un po rossi dappertutto vedevo che spiccava questa mattina maker che stava facendo un bel 20 per cento nella giornata di oggi e un 30 per cento negli ultimi sette giorni alcune positive nella settimana alcune stanno già girando negative nella settimana bitcoin in questo momento sta prendendo il 4 75 per cento ethereum del quale parliamo poi 1 32 per cento ma ancora per una negli ultimi sette giorni un più 10 e 22 per cento andiamo alle notizie che abbiamo voluto notizie che abbiamo voluto condividere sul nostro twitter se non ci segui seguici perché qui condividiamo in lingua inglese la maggior parte sono alcune notizie che sono proprio pam pam chiare veloci e non ti fanno neanche perdere tanto tempo le leggi e via sono notizie importanti ovviamente partiamo da questa notizia che poi quella che ha dato il titolo alla nostra puntata di oggi bitcoin for the people si è presentato così il wall street journal e è impressionante impattante vedere una prima pagina del wall street journal con poi un articolo all'interno bitcoin for the people ci siamo ci siamo ci stiamo muovendo queste cose erano assolutamente impensabili solo due tre anni fa stiamo vivendo un'esplosione la vivremo per i prossimi anni altra notizia importante che vogliamo condividere con te è questa di soros soros food management george soros ha dato il green light appunto al soros food management per fare trading di bitcoin perché è una notizia importante una notizia importante perché si parla di grossi capitali di persone che vengono seguite ammirate e hanno insegnato tanto nel mondo degli investimenti quindi sapere che un soros da la via libera per fare trading di bitcoin ci dà gioia allo stesso tempo come dice pompliano in un suo tweet vediamo se sarà positivo negativo in base a come vorranno fare trading perché sono grandi quantitativi di denaro quindi hanno grandi possibilità di muovere il mercato che ancora piccolo ancora in crescita che appunto quello del bitcoin un'ultima notizia 650 banche oggi possono offrire bitcoin ai loro clienti grazie alla partnership appunto fra questa azienda e ncr che è un gigante dei pagamenti e questa sono circa 28 milioni i clienti che potranno accedere al bitcoin proprio da oggi quindi assolutamente un'altra notizia positiva ce ne sono veramente tante basterebbe andare un attimo sul loro canale appunto dal profilo di n y d g i ho anche questa notizia 24 milioni non 28 milioni di clienti che raggiungeranno e potranno raggiungere bitcoin grazie a questa partnership però se guardate seguite il loro profilo vi renderete conto che ogni giorno fanno collaborazioni stanno lavorando tantissimo quindi ogni giorno ogni giorno c'è una collaborazione nuova lighting network second layer solution pagamenti assolutamente c'è tanta roba che sta passando sotto i nostri radar e quindi sicuramente notizie positive per il bitcoin andiamo a vedere il grafico partiamo dal grafico mensile oggi è il primo luglio quindi abbiamo chiuso una candela mensile ieri io mi aspettavo e volevo con grande forza che questa candela chiudesse verde l'avevamo detto anche nella nostra newsletter lo sforzo che dovevano fare i bull era poi un 6 7 per cento sarebbe stato sufficiente un 37 mila non ci siamo arrivati abbiamo chiuso il mese di giugno a 35 mila 0 60 quindi al di sopra dei 35 mila dollari continua questa fase di consolidamento lo vediamo benissimo nel nel settimanale siamo tra resistenza settimanale supporto settimanale li troviamo 38 mila 171 la resistenza e a 32 mila 190 il supporto e poi c'è questa linea quasi di mezzaria che abbiamo tirato a 34 mila 704 che rappresenta le ultime una due tre quattro cinque sei chiusure nel settimanale sempre al di sopra di questo livello quindi potrebbe essere questo un nuovo livello da tenere in considerazione stiamo a vedere questa settimana molto importante prima settimana di luglio nel giornaliero effettivamente è cambiato poco appunto questo range settimanale e anche giornaliero che lo troviamo a 40 mila e lo troviamo a 30 mila ieri sembrava l'altro ieri sembrava essere riuscita ad andarci sopra questa piccola fase di consolidamento qui che ci sta facendo da resistenza in questo momento e al di sopra di questa trend line niente ieri siamo ritornati sotto la chiusura è stata a metà più o meno di questa fase di questa cluster di supporto e siamo tornati giù oggi stiamo a vedere come chiude perché la giornata è ancora lunga mancano ancora 14 ore e il bitcoin ci ha abituato a sorprese di tutti i tipi oggi ci saranno oggi domani ci sono grandi dati che escono anche dall'economia statunitense come ben sapete il dollaro a queste notizie si muove sull'alto verso il basso e il dollaro assolutamente può condizionare anche il prezzo del bitcoin abbiamo già visto il dollaro e le forse il dollaro in questo momento è molto forte ed è una dal mio modesto punto di vista è una delle motivazioni per le quali non riusciamo ad andare verso l'alto stiamo a vedere nel giornaliero e anche nei time frame più piccoli se riusciamo a mettere a segno un al basso più alto vi ricordate che abbiamo parlato di questo bottom di questo livello qui abbiamo creato un alto più alto quindi siamo contenti stiamo a vedere se riesci a fermarsi su questa linea dei 33 che ha già toccato stamattina 33 137 che poi ha fatto da supporto qui ha fatto da supporto qui ha fatto il supporto anche tempo fa quindi mesi fa stiamo a vedere se questa linea ci aiuterà e qui riusciamo a creare un basso più alto per poi andare a cercare di creare un alto più alto stiamo a vedere come inizierà questo mese di luglio non dobbiamo non dobbiamo dire altro per quanto riguarda bitcoin ma sì dobbiamo accennare a quello che è riuscito a fare ethereum in questi giorni ne avevamo parlato molto velocemente di questo supporto che era un supporto importantissimo nella coppia ethereum dollaro che era praticamente identico a un altro supporto che avevamo nella coppia ethereum btc siamo riusciti a andargli sopra ieri ok in questo momento non l'ho ancora trasformato in supporto mi piacerebbe vedere guardate cosa ha fatto ethereum andiamo a misurarlo velocissimo negli ultimi cinque giorni ethereum è cresciuto già al livello di oggi più del 21 per cento mi piacerebbe vedere una chiusura al di sopra di questa parte alta di questa fase di consolidamento che troviamo a 2145 una chiusura qui io la chiamerei bullish ritest ritestiamo trasformiamo questa precedente resistenza in supporto e siamo pronti ad andare verso l'alto attenzione ad ethereum che ci può regalare grandi sorprese rotta questa andiamo dritti verso i 3000 dollari anche perché la dominance è rimasta lì negli ultimi due tre giorni ha stornato un po quindi sta prendendo un po rimane sempre in un trend rialzista quindi se stai pensando di entrare o aggiungere posizioni ricordati bene questo grafico perché lo sai benissimo se non lo sai te lo ripetiamo una bitcoin dominance in salita quindi un bitcoin forte tendenzialmente vede le altcoin che inseguono non outperform non fanno meglio di bitcoin ma fanno peggio ok e altra cosa importante prima di salutarci vediamo che il grafico a questo punto ethereum btc che ritorniamo a prendere in considerazione visto il grande rimbalzo che ha avuto negli ultimi tre giorni tenetelo sotto controllo anche qua siamo ad una resistenza importante mi piacerebbe vedere anche qui lo sapete abbiamo fatto questo alto un alto più basso mi piacerebbe vedere addirittura un ethereum che va al di sopra di questo alto più basso dovesse creare un altro alto più basso ahimè mi aspetto poi un basso più basso quindi al di sotto di questo livello però è ancora in fase di sviluppo l'importante aver visto ethereum btc rimbalzare da questo importantissimo supporto perché al di sotto di questo non c'era più praticamente supporto se non fino a 0 48 il primo 0 0 45 il secondo quindi siamo qui stiamo a vedere come si svilupperà in questa prima settimana in questi primi giorni di luglio appunto anche ethereum btc benissimo grazie mille per averci seguito anche oggi grandi notizie tante ne sono passate così c'è anche una notizia della germania che da oggi autorizza i fondi investimento ad entrare in bitcoin non l'abbiamo vista abbiamo voluto tenere la puntata corta lasciaci un bel like commenta sottoscriviti al canale se non sei ancora sottoscritto al canale metti e seleziona all sabato saremo live con un ospite che non abbiamo voluto dire chi è ma lo saprete presto perché pubblicheremo orario e lo cammina sul nostro sul nostro canale sabato pomeriggio intorno alle 15 15 e 30 un abbraccio a te fai una buona giornata e forza bitcoin un saluto anche albi bye bye